Buongiorno a tutti, è veramente un piacere vedere questo palazzo aperto ai giovani. Noi siamo molto favorevoli e molto ben propensi a svolgere questo tipo di attività. Non a caso abbiamo realizzato questa tappa quest'anno presso Palazzo Salerno, perché siamo convinti che un'opera di educazione stradale in questo caso serva ai giovani, serva a tutti e ci consenta di vivere in un clima sicuramente più sereno e più pacifico. di convivenza comune. Noi ormai siamo rivolti al sociale, quindi questa iniziativa l'abbiamo ben accolta e ben sviluppata.